abbraccio e un bacione grande grande da parte mia bene che dire, facciamo entrare insomma il giovanotto insomma il simbolo, visto che abbiamo avuto una marea una marea di telefonate ma tante, tante di quei messaggi, di complimenti lo accogliamo con un forte applauso lo accogliamo eccolo a voi signore e signori Beppe Chirulli applausi ecco ti metti qua buonasera a tutti ragazzi buonasera Nicola buonasera a te Beppe oggi è un'eretta e mezza molto importante diciamo, molto divertente dove vuoi stare? qua vuoi stare là, destra, sinistra beh oggi è una serata più bella no? secondo me anche perché poi ci è venuto a trovare anche Luca quindi eccolo lì quindi diciamo milioni e milioni di visualizzazioni quindi è un onore è un onore averlo qui con noi oltre ad essere un ragazzo fantastico però oggi parliamo di te iniziamo a parlare di te con la buona musica poi entrerà anche il nostro amico Luca che dire Beppe tanto che arriveranno le telefonate sicuramente arriverà una marea di telefonate sì, oggi sicuramente ok io direi subito di se c'è da fare dei saluti particolari io voglio dare un mandato i saluti mandiamoli a dopo ah li mandiamo tutti a dopo vorrei cantare il brano che ho registrato ieri San Valentino lo vorrei cantare al pianoforte al pianoforte? sì, lo facciamo però un applauso non lo sento regia un applauso forte 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 lo vogliamo fare a Beppe Chirulli? eh? San Valentino Beppe Chirulli dormi scusi è una ragazza nuova? sì, sì San Valentino grazie allora stiamo per ascoltare questo singolo ricordiamo di Gigi D'Alessio quindi una cover di Gigi rifacciamo di nulla ripresentiamo signore e signori Beppe Chirulli con San Valentino sapere quel calendario che segna già quel giorno inutile senza idee fa brai che vena fa c'è tu ho festeggiato me quanti baci per un cino d'acce regalata viena ne va me ne c'eve bigliettine spurghe juccolata vada va vasa quando innamorata rinda sta srate me ne sto accorgendo che a manca miette po' 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 ma trova che è culta forse mi è sanato posta mia cutte per due vecchie innamorata viena sta giornata senza pietà a san valentino cuore soffre che i natale non si fi resta si innamor per regalo vende magazzino non si può trovare io che sono rimasto sulle fana sti vetrine che mi ferma a fare che sto vecchio innamorata con 200 lire mi torna a campare ma roppe telefonate ma risposto padre chiarito non ci sta fa pace una volta meglio sta srate niente ci può star forse non regalerà di stare avendo già questo cuore di cartone dentro la vetrina su un pacchetto blu serve solo da regalo forse tale quale comodino ma quando innamorata pur già sposata mezza via abbracciata vedi camminare sto rende rapa uno che ci stai pure tu mezza chi sticca un picchio innamorato con 200 lire può tornare a campare ma roppe telefonate ma risposto padre la rita non c'è sta va facendo una volta mi è stasera niente ci può stare forse non regalino che sta in avendo già fa facendo davanti mi è stasera niente ci può stare forse non regalino che sta in avendo già fa facendo una volta mi è stasera niente ci può stare forse non regalino che sta in avendo già ed era Beppe Chirulli con San Valentino ma che bravo che bravo 15 anni sai che già mi hanno fatto i complimenti qua fuori una persona poi te li farà di persona sicuramente li fa di persona già mi ha detto ma quanti anni c'ha c'ha 15 anni ma è bravissimo ha detto bravissimo ma si che è bravo molto bravo 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 e questo è tutto merito tuo della tua passione e del mio papà e del tuo papà ma l'impegno è sempre il tuo papà metti i soldi un aggiuntivo un milione d'euro Andonello salutiamo Andonello qui di fronte a noi un bacione anche a Flavio e un bacione a tutto lo staff di Partenope TV va bene allora non so se c'è qualche telefonata la prendiamo se no facciamo passiamo su un altro brano e poi facciamo entrare l'ospite con lui ok va bene passiamo al secondo brano poi facciamo entrare l'ospite visto che è arrivato adesso in questo momento secondo brano quello vogliamo portare? non lo stai scettato allora non lo stai scettato Beppe Chirulli qui su Partenope TV è male non è male ma è male ma è male non lo stai scettato E tu che stai credendo, ma dimmi come fai. A non credere a me, non ho vede, che mi dorsi tutta. Sarà certo una tua falsa amica, che pensate che fa la sua, perché mi dà capo di nessuna a me. A notte amore non resta a sedata, gusti brutta, banziera non dà venenare. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora di dim da malinconi, la mora da vita mia, si solamente tu. E anche i mo' aspettare, che non ci lasciamo, senza soddisfazione, non ci adamm mai. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. Con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. E un'ogora disegnata nel diario, con i nostri nomi non un nostro aciam. Bellissimo l'applauso. Però adesso è arrivato l'ospite, tanto atteso da noi. So che a te ti piace tanto, a me mi piace tanto. Ma non piace, ma piace a milioni e a milioni di visualizzazioni su YouTube. Ha fatto vingere gli europei della nazionale italiana con questo brano. Veramente. Quindi non possiamo altro che amarlo. Oltre ad essere un gran lavoratore. So che si alza alle 4 la mattina, poi magari lui ci spiegherà sicuramente meglio. Forse anche prima. Quindi lavora alla grande e fa anche il cantante. Però il suo lavoro, c'è una pescheria. E lo accogliamo con un forte applauso. Ladies and gentlemen, qui al Partito PTV abbiamo Luca, il sole, di notte! Buonasera. Buonasera Luca, buonasera. Tutto bene? Tutto bene. Buonasera, buonasera. Grazie. Ringrazio per l'invito. Prego, prego Luca. No, è il microfono. Va bene, va bene, non c'è bisogno. Grazie per l'invito. Grazie, grazie veramente. Complimenti anche a te. Luca, c'ha 15 anni. Alla grande, grazie. Sicuramente la prima volta che lo ascolti che... Poi esplicemente quando uno ci crede di una cosa. A te piace? E l'importante crede, c'è una cosa. Ovviamente, sì. E' passione. La vengo sempre per scherzare. Come è venuto, mi è tutto scherzato. Cos'è viene che è benvenuto. Ok. Va bene? Bellissimo. Novi sono noi... Un quadri di Altamuro sta sempre forte. Sempre forte. Sempre più giuro. Sempre più giuro. Sono 49, eh? Sono 49 anni. Quanta anni che sono? 50 anni. La festa di Altamuro ti è piaciuta? È piaciuta, è stato un grande. A giugno, a settembre ci rivediamo, quindi staremo insieme. Ora la cambiamo ora? E la cambiamo oggi e deliziamo il nostro pubblico, il tuo pubblico. Che ti segue? La cantecina del Porto Fortuna della Nazionale Italiana. Viva il cibo. Bravo. Buona dieta. Siamo pronti? Si siamo. Siamo, regia. Olate. Siamo, regia dei giornisti. Siamo, regia dei giorni. Guardami una pizza. Sì, alla sì. Guarda bene. Guarda, ma ce lo diemo? E vai, vai. Essi è vota come pesa, come grida la bilancia, quando a volte poi ci salto su. Ma la cannaz, pure si tenga panze, meglio non me su stanze, che a stacchina con mattè. Ma qua la dieta, mi piace le polpette, mi piace le cotolette. E ci mangiate i quarti, tenga fammi il soggetto. O sole e notte, o sta' nella casa vostra. Ma te mi fa festa, una mezz'ora e stiamo a porto. Da bere un bel panino. Ma io dico sempre da bere, però. E io il panino mica lo mangio. Lo bevo. Ammura. E alla sì. Ma qua la dieta, mi piacciono i polpette, mi piace le cotolette. E ci mangiate i quarti, tenga fammi il soggetto. O sole e notte, o sta' nella casa vostra. Ma te mi fa festa, una mezz'ora e stiamo a posto. Ed era Luca, il sole di notte, ragazzi. Il sole di notte, il sole di notte. Grande Luca, grande. Pronto. Pronto, chi sia? Dove chiami? Pronto. Pronto? Pronto, chi sia? Dove chiami? Beppe. Pronto, chi sia? Ehi, mi piace con le partite, la mia giovedì scorso. Ciao, Vincenzo. Ehi, se, chiamate la papata del GD. Ehi, da me è quello il numero. Allora, mo ti do un numero preciso. Aspetta, però, hai com'è una pezza. Va bene. Dimmi. 3, 7, 9. 3, 9? 3, 7, 9. No, scopo, il 7, 9. Aspetta un atto, Giuseppe. Va bene. Un atto, vai. Vai, vai. Allora, dimmi. 3, 7, 9. 3, 7, 9? Sì, sì. E' quello che ho, 3, 7, 9, 10, 64, 32, 92. E' 36, 92. Vi dite abbassare il numero del tavisone. Abbassare il numero del tavisone. Allora, 36, 92. Va bene, ok, ok. Va bene. Ehi, ma mi stai dire un po' al pranzo, no? Va bene, va bene, tranquillo. Eh, eh, me lo faccio male. Va bene. Il prossimo ultimo. Eh, ciao, grazie. Un abbraccio, salutiamo tutti gli amici della Puglia, della campagna, della Basilicata. Un bacione ancora alla mia radio, Radio Carina, Radio Carina TV. Un bacione grande, grande al direttore Antonio Marte. Beh, oggi l'ospite, la parola diamo a Luca, visto che sei l'ospite, insomma, è d'eccezione qui con noi, Luca. Ok, io ti ringrazio per l'invito. A Cardona, a Cardona. Madonna, mi. Che stai, a Cardona? Ti ha visto? Ti ringrazio per l'invito. Cominati di nuovo a questo giovanotto. Grazie, grazie. Mi piace. Appena porto, si è piaciuto. Mi fa la cazzo di Gida, che Gida deve essere il mio idolo. Eh, pronto. Quando lo sento, ho la pelle tocca. Pronto, volate. Pronto, di Gida dove chiami? Pronto? Ciao. Ciao, chi sei? Sì, no. Un bacio, amore mio. Ciao, pre, ti saluta la mamma, la mamma è d'acchiata, tutti. Un bacino a voi. Va bene, ben bocca al lupo, eh. Grazie, grazie, amore mio. Ciao, amore mio, della mia zonca. Un bacio, cate grande. Allora, Luca, ti volevo fare qualche domanda. Una domanda, insomma, sicuramente, sicuramente te l'avranno fatta un miliardo di volte. Questa canzone, che cosa è il brano della dieta, della nazionale? Che cosa ti ha cambiato della vita? Broder, diciamo, questa canzone è nata tutto per il gioco, anno 2020, prima del primo lockdown, in sala discografica dal maestro Franco Desiree, aranciatore Franco Desiree e il maestro Cicorinna che, scherzando, mi ha scritto questo brano, che io all'epoca era ancora in carne, era abbastanza cicciotello, abbastanza rosso, come se dice a Napoli, era proprio gigantesco. Sì. E' diventato un tormentone, grazie alla nazionale che abbiamo portato a Napoli, in tutta Europa. Certo. Con Cotolette e Polpette abbiamo vinto i campionati fino a luce. E questo ti fa onore a te e fa onore a tutta la nostra cittadinanza italiana. Sì, pronto vi sento. Buonasera, buonasera a te. Ciao Luca, sono Rosario Di Pozzoni. Ciao, buonasera Rosario. Sì, Luca, che non mi conosci, sono quello ragazzo che è venuto affusato a vedere in continuamente. Non ricordo, comunque dimmi tutto, alla grande. Sì, Luca, tu vuoi si chiamano di fuori di canna e sono un bagno mio. Sì, vuole, vuoi ascoltare. Sì, la ragazzo è un po' così in un piatto, in un piatto vaga. In un piatto vaga, come si chiamano un bagno d'ore? Eh no, non puoi fare un uomo, e poi c'è una canzone a mia mamma, no? Sì. Ma qua la chiede, mi piace il Puppetto, mi piace la torre? Aggi mangiate i quattro, venga, fammi il sommissimo. Grazie, io ce l'ho cantata, però dopo la facciamo di nuovo. Certo, buono. Ok, tanto abbiamo tempo, abbiamo tempo. Certo. Un abbraccio, un abbraccio. 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 Dovevo mandare un bacione, un abbraccio a un grande amico mio, che sta a secondigliano. Nicola Sarli, ciao Nicola, sicuramente ci stai guardando, è un pronto rientra a casa con il cuore, da parte mia e di Michele, ok? Un abbraccio, Nicola. Va bene, allora andiamo avanti con un altro brano. Vuoi cantare tu una canzone? Facciamo ascoltare a Luca solo di notte. Che vogliamo fare ascoltare? Facciamo... E te sei innamorato? Vai, vai. Vai. Beppe Chirulli! Vabbè, sempre. Lo sa che da Giuliano per Peppe, che gli mando un bacione forte e poi dobbiamo sottare la signora Teresa da Capodimonte. Un abbraccio. Un abbraccio. Vai con te sei innamorato. Ia abbrimmi, dè, capava senza grow, Ia abbrimmi, dè, in creeremo vero che ho l'amor. Senza bezzà M'ho d'eber Seri d'astore Ti dà Lì e me dì M'ho d'acondentat E li è senza verità M'ho d'esplugliat E z'ogore N'l'anima E mo si è arrivato Rinda un attimo E mi è gagnata vita E te sono innamorata Tu non si fai malata Fai bella stia giornata Senza manca J'avanzà Giuseppe Tu non si fai malata Con un sorriso Tutte cose Sai gagna E te sono innamorata Tutti che sono sicuro Casi tornassi Nasa manca La volta a te Un attimo E mi è d'esplugliat E mi è d'esplugliat E ti è sante E te sono innamorata E se non le prime Della morte Tu mi hai guardato Verdi dall'occhio Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a 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 tutti Un bacio Grazie a tutti 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 E questo Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Ciao Grazie a tutti 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 E tu Grazie a tutti 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 E vai vai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti